Monica Serafino, di nuovo Look, ha aderito anche lei alla piattaforma promossa dal Comune, vicinato.shop, come si trova? Io molto bene, devo ringraziare il Comune perché ci ha dato questa opportunità di avidarci questa pagina web, l'ho finita tutta, l'ho completata tutta, adesso dobbiamo solamente partire per far acquistare le persone o per fare pubblicità. Lo consiglierebbe ai suoi colleghi? Sì, l'ho consigliato anche a molte persone, che ho mandato delle persone per chiedere informazioni. Ecco, dal punto di vista tecnico ha trovato difficoltà nell'approcciarsi a questa piattaforma? All'inizio sì, poi mi è stato spiegato abbastanza bene, adesso è tutto fatto, io non trovo tanta difficoltà nell'inserire prodotti né niente. Comunque è un'iniziativa positiva secondo lei? Certo, che ce ne fossero, su quello lì sono sicura. L'assessore Oneglio qualche tempo fa, direi un mese e mezzo fa, ha proposto al sottoscritto come Presidente del CIV l'opportunità di poter aderire a questa iniziativa, secondo noi veramente interessante. Abbiamo cercato di avvisare il maggior numero di consorziati, con piacere ho appreso che un grande numero di colleghi consorziati, ovviamente hanno aderito a questa iniziativa, anche a Doneglia. Può essere un tentativo, peraltro neanche tanto piccolo, visto comunque il numero notevole di esercizi partecipanti, di poter creare in periodi particolarmente difficili come sono quelli che stiamo vivendo, una tipologia di vendita che magari ha ai più era un po' sconosciuta. Diciamo che i riscontri al momento, essendo l'iniziativa partita da non tantissimo tempo a livello numerico, sono già comunque abbastanza significativi, ma anche solo l'interesse o i commenti positivi che sulla mail dei vari referenti delle varie attività arrivano dei riscontri positivi di apprezzamento del pubblico in generale. È un'iniziativa che è appena partita, io sto continuando a caricare articoli, ci credo molto, ho visto delle visualizzazioni perché c'è la possibilità di vedere la statistica, credo che la gente si debba abituare, ma credo che sia una cosa molto positiva e che possa essere accolta molto bene. Io, come tutte le cose, devono partire, ma è il futuro, l'ho sempre detto anche prima di tutto questo problema che c'è adesso. Quindi è sempre una cosa in più, una pubblicità anche in più per uscire fuori da, come ripeto, da Via Cascione o da Porta Maurizio affinché la gente conosca meglio tutti i nostri prodotti. Ho detto a questa iniziativa perché ci è sembrata una cosa nuova per Imperia, una bella iniziativa che dà visibilità a tutti noi commercianti. Ci siamo trovati molto bene con chi l'ha organizzata, ci hanno mandato una ragazza molto preparata, Cara Gloria, che si è dedicata una bella mattinata a caricarci parecchi prodotti. Noi pensiamo che sia un'iniziativa che piano piano possa prendere piede perché dà una visione completa di tutte le attività che ci sono tra Porto Maurizio e Oniglia. Adesso abbiamo appena iniziato, sono solo dieci giorni, bisogna dare un po' di tempo che la cosa prenda piede, però a noi sembra una bella iniziativa che ci possa dare una mano in questo periodo di difficoltà per tutti i commercianti. Mi sembra un'ottima iniziativa da parte del Comune, è una cosa interessante visto il periodo in cui tutti i commercianti stanno attraversando, mi sembra un'ottima opportunità per qualsiasi settore del commercio qua in Peria, una cosa positiva. Comunque siamo stati aiutati anche per l'inserimento su questa piattaforma da alcuni operatori del Comune che sono stati disponibilissimi e la trovo un'ottima iniziativa, un'ottima cosa per cercare di passare questo periodo e chissà nel futuro magari avere sia la vendita in negozio che la vendita online può essere un'opportunità.